è completamente fuori dall'ordinario abbiamo 210 metri quadri interni 200 metri di terrazza aperta su una vista veramente molto molto bella grande respiro 6 metri d'altezza una bellissima cucina eccoci qua nella zona notte vista aperta sull'open space è un tre e mezzo locali manzardato ma non è la solita trave travi a vista completamente bianche che danno un tocco di originalità e luminosità pensate che c'è una manzarda bassa e invece no